Tanti Gieffini in viaggio per Parma per la festa di compleanno di Vittorio Menozzi, che ha compiuto 24 anni. Erano presenti ben 14 ex Gieffini, Arnold, Marco Fortunati, Giselda, Perla Vatiero e ovviamente Mirko Brunetti, Rosi, Federico Massaro e l'immancabile Angelica Bagaldi e suo fidanzato, poi Paolo Masella, Letizia Pretis, Greta Cossetti, senza il suo bel Sergio Dottavi, Valentina Modini, Stefano Miele e il simpatico calzolaio Lorenzo Remotti. Erano tutti gli altri, gli altri 19 non presenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ... 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 « pezzo lui» «Sé innamorarsi ancora» «Sus se no» «Ma è solo la mia Roma» E' un corpo stessa, per la volontà, per la volontà, per la volontà, per la volontà, per la volontà. E' stata una festa di compleanno fantastica, divertimento. Canti assieme e poi, alla fine, una fantastica torta di compleanno per Vittorio Menozzi. Ovviamente, dopo i grandi festeggiamenti, tutti i Gieffini sono ritornati a casa e in questa ultima clip vediamo Perla e Mirko che ritornano in albergo e Perla ha fame. Eccoci qua, noi stiamo tornando in camera, ma in realtà, amore, io non voglio andare in camera perché io voglio mangiare, vorrei tipo un Mac, non mi stai accontentando? Io ora lo dico a tutti che non mi accontenti perché voglio mangiare, ho un tosto, un panino, due panatine fritte. Dai, amore, accontentami. Vediamo, vediamo qualcosa a chi ti amo, a chi ti amo.